Vale, ale, 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 ragazzi voi mi prendevate per matto Raga io ho appena visto una delle partite migliori del Napoli in Europa League ragazzi 2 a 2 tra l'Ester e Napoli ragazzi dopo essere andati sotto di 2 a 0 Il Napoli non ci sta e rimonta la situazione ragazzi Doppietta di Ozyman e chi diceva che chi sottovalutava Ozyman ragazzi Coloro che hanno sottovalutato Ozyman pensateci due volte che oggi si è riscattato ha fatto due gol L'ultima doppietta che aveva fatta era contro lo Spezia l'anno scorso in realtà all'aprile di quest'anno Ma in teoria lo scorso è un logistico Raga primo tempo un disastro del Napoli Primo tempo un disastro E raga mi vergogno di quello che ho visto Cioè noi ci siamo mangiati 4 gol 4, 1, 2, 3, 4, 4 gol Poi secondo tempo L'Ester segna ma il Vala nulla per fuorigioco Poi segnano di nuovo stavolta non c'è il fuorigioco E poi ragazzi quello che ho visto è assurdo Peccato però perché c'è stato un momento in cui credevo che Napoli Vessi avuto l'opportunità di vincere con quel colpo di testa di Ramani Però ragazzi non va niente ragazzi Non va nulla Basta che almeno abbiamo portato a casa un punto che può essere fondamentale Per la classifica Noi ci vediamo Noi ci vediamo Ciao Ciao